Direttamente dal Monte Olimpo qui a Torino, la verde e blu animazione è pronta per presentarvi il musical di Hercules. Direttamente dal Monte Olimpo qui a Torino, la verde e blu animazione è pronta per presentarvi il musical di Hercules. Direttamente dal Monte Olimpo qui a Torino, la verde e blu animazione è pronta per presentarvi il musical di Hercules. Con i ragazzi dell'Accademia, quindi non mancate, ogni prima domenica del mese l'appuntamento in Via Stefanone 25 Torino, il tutto firmato Accademia d'Animazione, il tutto firmato verde e blu. E' con me, con me, non ce n'è per nessuno ormai, è arrivato dove mai, nessun altro mai potrà andare. Direttamente dal Monte Olimpo qui a Torino, la verde e blu animazione è pronta per presentarvi il musical di Hercules. Direttamente dal Monte Olimpo qui a Torino, la verde e blu animazione è pronta per presentarvi il musical di Hercules. Grazie!